In questo video risponderò alle vostre domande che mi sono arrivate, sono state molto molto interessanti, della casella del cuore. Risponda a Delvira, cara Silvia non riesco a dire di no e poi in quale modo mi rifletto nelle relazioni di lavoro dove non so farmi valere? Grazie. Allora, cara Elvira, rispondo grazie a te a una domanda che mi fanno tantissime persone e che dico da 23 anni nei miei seminari, nei corsi, all'università. L'essere stati educati, abituati, cresciuti in una cultura in cui il no veniva ricevuto e anche subito e in cui ci hanno insegnato a dire poco di no ma a dire spesso sì e a essere un po' condiscendenti, accomodanti, ha reso tutta questa società nevrotica. Perché succede che noi abbiamo dei bisogni e dobbiamo soddisfarli e dobbiamo anche mettere i confini alle persone, alle situazioni. Dobbiamo imparare a dire di no, a dire di sì quando è sì, di no quando è no. Se invece diciamo sì quando è no, ci facciamo invadere e l'invasione poi porta a delle attivazioni traumatiche, a una perdita di vitalità, a una perdita di rispetto per se stessi, a una perdita di forza, di autostima. Quindi io dico una frase un po' forte che è il no agli altri è un sì a te stesso. Imparare a dire di no in maniera gentile e a connettere con i propri sentimenti, i propri bisogni e a poter dire quello che veramente è la cosa di cui hai bisogno e poter dire di no a una cosa che senti che è invasiva, che è poco rispettosa, che non ti si confà, non è congeniale con te, è fondamentale. Quando impari a dire di no, mi dispiace, non posso, se lo vuoi rendere più elegante, giustamente, cominci a sentire più autostima. Fino a qua entrate, qui questo è il mio spazio vitale e io posso rispettarmi, posso crescere, posso star bene. Ed è fondamentale, così come il corpo ha la pelle, ha le sue difese e i suoi confini, anche il nostro campo emotivo, anche il nostro campo psicologico, anche il nostro campo di vita ha dei confini. Per cui è fondamentale dire di no in maniera gentile e essere fermi nelle proprie scelte.